Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Congresso provinciale del PD Irpino, penultima puntata. Ieri sera il candidato alla segreteria della cordata di Luca De Caro, Michelangelo Ciarcia, ha spiegato ai suoi sostenitori e ai giornalisti il senso della sospensione dell'assise per una settimana decisa dal Nazareno. In verità, più che spiegare, ha tentato di spiegare. Il suo eloquio, infatti, non è apparso proprio chiarissimo, certamente a causa della carica emotiva indotta dagli avvenimenti. Consiglio gratuito a Ciarcia. La prossima volta chieda l'assistenza di Cusanjin, al secolo Gino Cusano. Lui è bravissimo a tradurre in lingua ilpina dal cinese. Ciarcia. Sulateda l'assistenza di Ciarcia. Grazie.